Tixe, la tradizione del colore Royal Decoration Royal Decoration è la linea dedicata alle finiture decorative Tixe Kibli, finitura sabbiata metallizzata Glacial, decorativo effetto metallizzato Galaxy, decorazione cangianti iridescente Glitter Tixe, additivo decorativo effetto glitter Non occorre preparare la superficie d'applicazione con fondi o primer Si possono ricoprire indistintamente pitture lavabili o traspiranti preesistenti purché bene ancorati ed esenti di sfarinamenti Per procedere all'applicazione occorre munirsi semplicemente di un pennello Utilizzare Glitter Tixe in una classica idropittura da interno già diluita o in un generico sistema base acqua aggiungendolo in un rapporto volumetrico minimo di 1 a 10 Una confezione di Glitter Tixe da 250 ml è sufficiente per 2,5 litri di prodotto Glitter Tixe è disponibile in varie colorazioni abbinabili alla tinta della pittura prescelta Glitter Tixe è appositamente gelificato per essere aggiunto senza disperdersi nell'ambiente circostante Una volta aggiunto, agitare fino a completa miscelazione Procedere all'applicazione secondo le indicazioni prescritte per la pittura Grazie all'incidenza della luce naturale e artificiale è possibile ottenere superfici movimentate da molteplici bagliori che donano agli ambienti un aspetto originale